Anche il rifiuto umido dunque prende la strada di Catania. Questa è la novità di oggi pomeriggio. Paolo Mandracchia, chiamato a fronteggiare all'emergenza scaturita dalla chiusura improvvisa dell'impianto di Marsala, sta cercando dunque un'altra soluzione. E così, nella stazione di trasferenza di Alcamo, da cui i rifiuti indifferenziati prendono la direzione di Lentini, sarà destinata anche la frazione umida che, in base all'ecocalendario vigente, dovrà essere ritirata proprio domani. Si lavora intensamente negli uffici dell'ecologia per sancire l'intesa, in mancanza della quale il servizio potrebbe essere clamorosamente interrotto, ma pare che non ci siano problemi in tal senso e dunque domani il rifiuto umido verrà regolarmente ritirato. L'indifferenziato destinato alla discarica è già gestito dalla Sicula Trasporti, mentre a questo punto l'umido dovrebbe essere gestito dalla Sicula Compost. Una vicenda nella quale grida vendetta l'interruzione del funzionamento dell'impianto di Contrada Santa Maria, trasferimento anche del rifiuto umido che inevitabilmente comporterà un ulteriore aggravio dei costi di gestione del servizio, contenuto all'interno del piano aro. Vicenda, come detto, che scaturisce dalla decisione della società che gestisce l'impianto di Marsala di bloccare l'attività di stoccaggio a causa del quasi totale esaurimento degli spazi. Un provvedimento che ha messo in crisi dunque il sistema di smaltimento dei rifiuti a Sciacca. Questa mattina i responsabili della struttura di Marsala avevano confermato il conferimento. Erano infatti partiti da Sciacca ben tre autocompattatori delle ditte che gestiscono il servizio, ma soltanto un mezzo ha avuto alla possibilità di scaricare. Gli altri due sono tornati in città ancora pieni. Nel corso della mattinata è poi arrivata la comunicazione ufficiale dello stop da parte della società che gestisce il centro di compostaggio marsalese.